Se prende via regolarmente lo magistro Giuliani Frattone, Sittmi, Rubini, Battiato, Gisio Elba, Tagliabue, Ferrarini, Pagani, Ciana, Rottetti, Calabria, Ricca, Marzutti, Ferrarini, Cianni, Leverato, passano il turno i primi 10 di ogni batteria, numero 50, prima munizione, in testa Gisio Elba, numero 50, seconda munizione, tre rifiuti, punti di meno 22, 51, 7, Gisio Elba, Giana, Junior, femmine, all'appello, intanto c'è un allungo in testa al gruppo, con il numero 32, Frattone, andiamo ai punti di meno 20, 32, 9, quindi Frattone e Ferrarini, ancora Ferrarini, in testa al gruppo, seguito da Gisio Elba, poi vediamo il body, il body della polisportiva San Nazario, con Giana, ora Gisio Elba, in testa, al passaggio, punti di meno 18, 51, 9, quindi Gisio Elba e Ferrarini, continuano a mettere punti sul loro personalissimo tabellino, Gisio Elba, ora c'è la Gernanza in testa al gruppo, alla campana di meno 17, è l'atleta dell'arpin line, con il numero 50, che si è portato in testa, Ricca, a passaggio punti di meno 18, 50 e 51, Ricca e Gisio Elba, Gisio Elba ora si è riportato in testa, seguito da Taglia 2, sale anche l'atleta della menzana, con il numero 82, Marzucchi, è stato lui che ha preso in testa la campana di meno 15, numero 15 ha munito, punti di meno 14, 51, 82, quindi Gisio Elba e Marzucchi, entra nei punti anche l'atleta della menzana, e ora la campana di meno 13, è l'atleta dei pattinatori Spinea, che si è portato in testa, le volato, numero 115 ha munito, punti di meno 12, 7, 112, quindi punti per Giana, entra nei punti anche le volato, e sono 7 gli atleti a punti, fino a questo momento ricordo, i primi 10 alla finale, campana di meno 11, con Giana in testa, seguito da Gisio Elba, poi le volato all'esterno a Marzucchi, abbiamo la volata dei punti di meno 10, 51, 82, punti per Gisio Elba e Marzucchi, ancora Gisio Elba in testa, ora all'interno ricca taglia la curva, si porta in testa l'atleta dell'unpin line, mentre all'esterno, con il numero 91, battiato, cerca di lanciare la volata per i punti di meno 8, ma rispondono in testa gruppo, punti di meno 8, 15 e 115, quindi, nei punti anche, entra un altro atleta, Rubin, del Tornoski Center, sono 9 gli atleti con punti, siamo ai punti di meno 6, 50 e 42, si trisce, prende un punto, 52 punti, eh non basta per quei due punti eh, qua sarà volata per andare a riempire le 10 caselle che danno l'accesso alla finale, intanto Marzucchi con Gisio Elba, allungano e siamo ai punti di meno 4, 82, 51, l'ultimo passaggio ai punti, punti, Cabbana di meno 3, con Rocchetti che non riesce a rispondere al cambio ritmo di Ferrarini e Gisio Elba, che si presentano ai punti di meno 2, 51, 9, Ferrarini, Gisio Elba, sono molti gli atleti a punti, ma i primi 10 vanno in finale, Cabbana, ultimo giro, ed è l'atleta del Tornoski Center, Rubin, che si porta in testa, Rubin seguito da Tagliabue, e con la morata del 3, 2, 1, 7, 15 e 115, questo è l'ultimo passaggio. Fior femmine, prepararsi all'appello, grazie. Partita la seconda batteria con Ponziani che si porta in testa al gruppo, fasi interlocutorie dove gli atleti vanno a cercare le posizioni nella pancia del gruppo, mentre abbiamo degli atleti che si fermano, 355 ha morito, Cabbana con Parasi che si è portato in testa l'atleta del Piaccia Smith, ma adesso sono avvanzato dall'atleta del Rollsport, vado l'Igure, punti, 62, 16, questi sono i primi punti, quindi misi e piccoli, Rollsport vado l'Igure, del Piaccia Smith. Tampana, ed è ancora piccoli in testa al gruppo, numero 43 a Monito, numero 87 a Monito, punti, 64, 16, Ponziani piccoli. Siamo in testa al gruppo, si è un po' rallentata, Campana di meno 19 con Piccoli che rilancia l'andatura, alle sue spalle è l'atleta del Red Black Roller Team e siamo ai punti di meno 18, point, point, point. 16, 47. Frigiani, un punto, entra nei punti anche lui, Campana, ed è l'atleta della mezza Giannettoni, Ponziani, seguito dagli atleti di Spinea, ora Ponziani, chiude la porta a Capozza, siamo allo sprint dei meno 16, 64, 84. Ponziani, Giannettoni, Giolo, piccoli, questi gli atleti nelle prime posizioni, avanza anche Ponziani, di meno 15, Giolo, piccoli, Rosetto, Ponziani, Capozza, Giannettoni e via via tutti gli altri, con Giolo in testa, piccoli, alle spalle, punti di meno 14. 111, 39, due punti per Giolo, un punto Rossetto. Rossetto, piccoli e Giolo, con qualche metro sul gruppo, che ora torna sotto, sotto l'azione di Fiorini, Giolo, piccoli, nelle prime posizioni, siamo allo sprint di meno 12 punti, 111, 12, 16, quindi Giolo e piccoli. Capici, ora in testa al gruppo, atleta della Luna Sport Academy, campana di meno 11, Capici, piccoli, piccoli, Fiorini, poi Giolo, poi Ponziani, passiamo ai punti di meno 10, 37, 117. Al passaggio questi punti, quindi Fiorini, un punto, due punti per Capici, ora Fiorini in testa a prendere la campana di meno 9, Fiorini, Ponziani, passa in testa, siamo allo sprint dei punti di meno 8, points, 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 64, 117. Ponziani, Fiorini, piccoli, Giannettoni, risale, portandosi dietro, Giolo, Giannettoni, Giolo, nelle prime due posizioni, poi Nisi, Giannettoni, Giolo, Nisi, Rossetto, Pozziani, Fiorini e siamo ai punti di meno 6, 84, 39. Campana con Giolo in testa, seguito da Ponziani, poi Rossetto, poi Nisi, poi Giannettoni, poi Fiorini, poi Piccoli, ma siamo allo sprint di meno 4, 111, 64, al passaggio precedente, con Nisi e Rossetto che prendono la campana di meno 3, Nisi, Nisi, Rossetto, Piccoli, Nisi, Rossetto, Piccoli, a passaggio, punti di meno 2, punti, e ora è Piccoli, che lancia lo sprint per l'ultimo giro, Piccoli, Nisi, Rossetto, arrivano da dietro, Siviglia, allora punti, 16, 62, 87, quindi Siviglia va a prendersi il punto dell'ultimo giro,